Tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso, a amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amarlo. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi, affrettiamoci ad amare. Perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. E perché tutte le cose, ma anche quelle inanimate, come le montagne, i mari, le strade, ma di più, di più, il cielo, il vento, di più, le stelle, di più, le città, i fiumi, le pietre, i palazzi. Tutte queste cose che di per sé sono vuote, indifferenti, improvvisamente, quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore anche le cose inanimate. Perché il fasciame di tutta la creazione è amore. E perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose. La felicità. Sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela. Tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità. Ora, in questo momento stesso, perché è lì. Ce l'avete, ce l'abbiamo. Perché l'hanno data tutti noi. Ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l'hanno data in regalo, in dote. E dare un regalo così bello, che l'abbiamo nascosto. Come fanno i cani con l'osso, quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così bene, che non si ricordano dove l'hanno messo. Ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all'aria. I cassetti, i fogodini che ci avete dentro. Vedrete che esso è fuori. C'è la felicità. Provate a portarvi di scatto. Magari la figliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo avere paura nemmeno della morte. Guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza ora, qui. Perché se non trovate niente ora, non troverete niente mai più. È qui l'eternità. Dobbiamo dire sì alla vita. Dobbiamo dire un sì talmente pieno alla vita che sia capace di arginare tutti i no. Perché alla fine di queste due serate insieme abbiamo capito che non sappiamo niente. E che non ci si capisce niente. E si capisce solo che c'è un gran mistero. E che bisogna prenderlo come è l'attuale stare. E che la cosa che fa più impressione al mondo è la vita che va avanti. E non si capisce come faccia. Ma come fa? Ma come fa a resistere? Ma come fa a durare così? È un altro mistero e nessuno l'ha mai capito. Perché la vita è molto più di quello che possiamo capire noi. Per questo resisto. Se la vita fosse solo quello che capiamo noi, sarebbe finita da tanto, tanto tempo. E noi lo sentiamo. Lo sentiamo. Che da un momento all'altro ci potrebbe capitare qualcosa di infinito. E allora ognuno di noi non rimane che una cosa da fare. Inchinarsi.